Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura, la cronaca, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno sottoposto a fermo due giovani di origini rumene ritenuti responsabili di violenza sessuale nei confronti di una quattordicenne del luogo, i fatti risalgono a settembre, poi la denuncia della ragazza ha fatto scattare le indagini, ancora cronaca, i finanzieri della tenenza di Ischia hanno fatto luce sul dissesto finanziario di una nota società sequestrati beni per 342 mila euro. Torniamo ad occuparci della riapertura delle scuole a Torre del Greco, questa mattina abbiamo ascoltato il dirigente dell'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, serve una comunità di intenti, ha dichiarato il preside Raffaele Palomba per affrontare quest'anno scolastico sui generis. Ancora l'emergenza sanitaria, focus sulla sicurezza a bordo dei treni della Circo Vesuviana ai tempi del Covid. La maggior parte degli intervistati questa mattina alle telecamere di TV City ha denunciato la mancanza di controlli adeguati. In chiusura lo sport con la Turris, dopo il rinvio causa maltempo ad Avellino, esordio di campionato per i Corallini, domenica a Liguri con la Virtus Francavilla. Questo ed altro, guardiamo i servizi. I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un diciannovenne ed un quattordicenne di origini rumene, entrambi senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una violenza sessuale consumata a Barano d'Ischia nella notte dello scorso 20 settembre, in danno di una studentessa quattordicenne del luogo. La ragazza, mentre percorreva da solo una scalinata pubblica ubicata a Barano d'Ischia, è stata raggiunta dai due indiziati, che approfittando dell'orario notturno l'hanno bloccata dalle spalle, con l'intento di consumare un rapporto sessuale. Fortunatamente la studentessa è riuscita a divincolarsi, fuggendo verso le amiche che la stavano attendendo presso una vicina fermata dell'autobus. Dopo alcuni giorni, la ragazza ha trovato il coraggio di riferire l'accaduto alla madre e dai carabinieri della stazione di Barano d'Ischia, facendo scattare le indagini. Nella serata del 30 settembre, al termine di tempestivi accertamenti, i due indiziati sono stati rintrecciati dai carabinieri e riconosciuti con certezza dalla minore e dalle sue amiche. Il maggiorenne è stato condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggio Reale, mentre il minorenne, presso il centro giustizia minorile di Napoli Colle Aminei, entrambi in attesa di udienza di convalida del fermo. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine della terza sezione della Procura di Napoli, ha dato esecuzione tra Ischia, Forio e Casamiccio La Terme ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo, con la quale è stata applicata una misura cautelare degli arresti domiciliari e un divieto di esercitare imprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti nel fallimento della Ischia Terme SRL. I reati ipotizzati sono bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le indagini condotte dai finanzieri della tenenza di Ischia hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziario della nota società, operante nel settore della fabbricazione e commercializzazione dei cosmetici, dichiarata fallita nel luglio 2016 dal Tribunale di Napoli. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l'amministratore di fatto della società, mentre alla sorella dell'imprenditore, utilizzata quale prestanome, è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese per sei mesi. Il complesso meccanismo architettato dagli indagati, secondo l'ipotesi degli inquirenti, consisteva nell'utilizzo di una serie di società collegate e intestate a prestanome compiacenti e riconducibili all'arrestato, che avevano come unico scopo la massimizzazione dei profitti. Il meccanismo fraudolento, posto in essere, consisteva anche nel distruggere scritture contabili obbligatorie della società, in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio fallimentare, accumulato nel tempo un debito tributario di oltre un milione di euro. Le società tuttora operanti saranno ora gestite da un amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale per assicurarne la continuità aziendale e la tutela dei posti di lavoro. Una comunità di intenti per affrontare l'anno scolastico, è quanto affermato questa mattina il dirigente dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Raffaele Palomba, alle telecamere di TV City. Ieri il primo giorno di scuola, quali sono state le sue sensazioni e le sue emozioni? Diciamo che ieri è stato un ingresso sperimentale, infatti ieri l'abbiamo dedicato all'accoglienza dei più piccoli, quindi i tre anni della scuola dell'infanzia e le classi prime della scuola primaria e le classi prime della scuola media al plesso di Campi Flegrei. Che anno scolastico sarà secondo lei? Secondo me un anno scolastico sarà sui generis, sperando, voglio dire che la curva dei contagi, le notizie dell'ultima ora sono anche allarmanti, voglio dire. Tra le altre misure abbiamo organizzato un'unità di anti-covid, un'aula dedicata, dei referenti, quindi se si dovessero verificare dei sintomi sospetti in qualche bambino o anche qualche adulto del personale, quindi scatterà tutto un protocollo e quindi questo chiaramente poi potrebbe portare, come in tutta Italia, a delle misure da parte delle autorità sanitarie. Chiaramente la scuola quest'anno è una scuola che richiede da parte dei docenti, dei bambini, ma anche delle famiglie, una unità di intenti, quindi un'alleanza e quindi tutti quanti, mai come questa volta il patto di corresponsabilità ha una valenza, nel senso che da soli i docenti non ce la possono fare, da soli i genitori non ce la possono fare, da soli gli alunni non ce la possono fare. Soltanto con una comunità di intenti, una comprensione, uno spirito di appartenenza alla comunità possiamo cercare di passare indenni per questa fase particolare, storica direi, perché è la prima volta. Nessuno di noi è preparato ad un evento di questo genere, quindi stiamo tutti imparando, facendo. Quali misure di prevenzione ha adottato il suo istituto scolastico? Abbiamo curato moltissimo il distanziamento sociale, fortunatamente le nostre aule sono abbastanza capienti, quindi siamo riusciti a rispettare quel famoso metro da bocca a bocca da uno all'altro, posizionando i banchi con delle strisce rosse che, voglio dire, rappresentano proprio il margine che è invalicabile e due metri dal docente. Poi abbiamo provato a, tra virgolette, a difendere i confini della scuola. Allora innanzitutto per evitare assembramenti a malincuore abbiamo dovuto chiudere l'accesso dei veicoli che normalmente era utilizzata anche dai genitori e quindi abbiamo installato una sbarra automatica e quindi l'accesso all'ex pineta che si trova a Monte e soltanto al personale, mentre i genitori devono sostare lungo la strada giusto il tempo per consegnare i bambini. Abbiamo disposto una turnazione negli ingressi e nelle uscite e abbiamo predisposto degli spazi esterni di raccolta, quindi il genitore è tranquillo perché basta che vede il bambino che viene preso in consegna dalla maestra che attende fuori sullo spazio di raccolta. I bambini misurano tutti la temperatura, arrivano nella loro aula, si siedono nei banchi, sanificano le mani con il gel che la scuola mette a disposizione e tolgono la maschera secondo quelli che sono i dettami delle linee guida che abbiamo ricevuto. Infine, un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano a cominciare l'anno scolastico. Dobbiamo imparare a essere resilienti, come si dice, quindi è una qualità che sicuramente i bambini che oggi hanno la sfortuna, ma anche la fortuna dal punto di vista caratteriale, perché sicuramente sarà un rinforzo del loro carattere per il futuro. Quindi auguro che tutto vada per il meglio e soprattutto mai come oggi ci sarà sul campo proprio un'educazione alla cittadinanza attiva perché se ognuno non fa la sua parte certamente non riusciremo a superare questo momento così difficile. Viaggiare in treno ai tempi del Covid-19. Questa mattina con le telecamere di TV City siamo stati in zona circunvesuviana per documentare la sicurezza nei treni. Tra gli intervistati emersi pareri contrastanti. Se una parte dei passeggeri si dice soddisfatta delle regole adottate per il contenimento del virus, l'altra si dichiara preoccupata e in ansia per la quasi totale assenza dei controlli. Bisognerebbe mettere qualche treno in più e purtroppo non è che è facile e dobbiamo adeguarci. Aspettiamo che si risolva un po' la regione Campani, il nostro De Luca e il nostro De Gregorio, il presidente del consorzio, facciano qualcosa in più perché veramente è una cosa forse la più disastrata, forse ancora di più per quanto riguarda le scuole. E' proprio i viaggi, i viaggi sui treni, sulla Vesoviana, sulla metronapoli, la linea 1. C'è distanziamento tra le persone? No, non ci sta perché è difficile, è difficile che ci sia perché i treni sono molto pochi, ci ne vorrebbero in più e quindi quando arriva un treno nessuno vuole aspettare l'altro che viene dietro e quindi si crea quell'assembramento. E' un po' problematica la questione, innanzitutto perché credo che la gente non abbia preso ancora coscienza di questa emergenza, chiamiamola così, e quindi non tutti rispettano le regole. La mascherina non sempre viene indossata, io per esempio come autista di autobus ho questo problema, non sempre è facile far rispettare questo tipo di regola e a volte sono costretto a lasciare i passeggeri a piedi perché non hanno i dispositivi di protezione individuale. Devo dire che comunque mantengono la distanza nel treno, forse per la paura, e quasi sempre rispettano anche i posti a sedere, uno sì, uno no. Quindi c'è distanziamento? Sì, devo dire che prendendo il treno tutti i giorni riscontro questa cosa. I controlli sono adeguati per questa emergenza secondo te? I controlli da parte degli agenti no, sotto questo punto di vista no, non ci sono controllori che controllano né i biglietti né se realmente indossano tutti la mascherina. Tra i passeggeri non c'è distanziamento? No, 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 assolutamente. Controlli? Controlli nemmeno, per niente, purtroppo. I treni sono parecchi affollati? Allora, dipende anche nelle ore, per esempio nella fascia mattiniera no, però per esempio di pomeriggio sì, sì, di pomeriggio sì. C'è una consapevolezza diffusa ormai che non c'è tanto da scherzare, insomma le distanze vengono autogestite, non c'è un'attenzione particolare da parte del gestore, ma insomma gli utenti del servizio sono abbastanza responsabili. Se saltano tre corse è evidente che le persone devono andare al lavoro, quindi purtroppo devono fare di necessità virtù, ma insomma con un funzionamento accettabile del servizio c'è un rispetto piuttosto diffuso. Qual è il suo modo particolare per tutelarsi da questa emergenza quando viaggia nei treni? Ma insomma sedersi mantenendo appunto il distanziamento prescritto, evitare e magari anche insomma consigliare a chi lo dimentica di indossare la mascherina in modo corretto, insomma magari stare vicino alle finestre se sono aperte, insomma le solite cose. Dipende molto dall'orario in cui si prende il treno, perché fondamentalmente all'orario che generalmente prendo io non c'è molto affollamento. La situazione diventa sicuramente molto più importante nelle ore successive, e quindi io penso che bisognerebbe incentivare il numero di corse. I passeggiari stanno rispettando le regole, il distanziamento, le mascherine? Nella maggior parte dei casi, almeno per quello che ho visto io, sicuramente le regole sono rispettate. Comunque non sono tutti disponibili i posti a sedere, quindi le condizioni di sovraffollamento si vengono a creare. C'è consapevolezza di questa emergenza tra le persone secondo lei? Credo nella maggior parte delle persone sicuramente sì, però c'è una minoranza che non rispetta affatto le regole. E il fatto che gli ospedali già iniziano ad essere pieni, ovviamente questo lascia per il futuro degli scenari che non sono proprio l'ideale. Si cerca di mantenere la distanza per quello che si può. Perché per quello che si può? I treni sempre affollati perché stanno in ritardo, le cose, solite cose. Ci sono i controlli secondo lei? Pochi. Qual è il suo modo particolare di tutelarsi da questo virus quando viaggia sui mezzi pubblici? Io lavoro in ospedale, quindi mi porto la mochina dietro e la mascherina sempre a portato di mano. I controlli ci sono? Sono adeguati? Controlli no, sono lasciati solo al personale in capotreno, poi non c'è nessun altro. Quindi arrivi e partenze? Arrivi e partenze, esatto. Durante e in corsa? Durante e in corsa non c'è nessuno che viene a visionare le persone. In Vesuviana la situazione è identica a prima. Con il Covid non è cambiato in pratica nulla. I distanziamenti per quanto riguarda la Vesuviana non ci sono, a mio avviso. A meno che non si prendono il trenitalia. Con il trenitalia la situazione comunque è migliore perché i distanziamenti ci sono e le persone, la maggior parte, rispettano le regole del distanziamento. Non ci sono i controlli che dovrebbero esserci. Noi ad esempio siamo qui per aver fatto l'abbonamento per prendere i treni e andare all'università però almeno la nostra università fino a gennaio è resta chiusa quindi abbiamo fatto un abbonamento, diciamo un po'... Seguirete a distanza? Sì, seguiremo a distanza. Però l'abbiamo fatto nella speranza di... Tutto torni alla normalità. Da parte dei vostri coetanei c'è particolare attenzione, c'è consapevolezza di questa pandemia? Io credo che per la maggior parte sì. A volte vedo più persone di una certa età non rispettare le regole che i ragazzi. Credo che comunque ci sia bisogno di un certo coordinamento tra scuole e trasporti perché comunque senza coordinamento non si arriva da nessuna parte. In attesa del recupero della partita tra Turris e Avellino, che potrebbe disputarsi il 28 ottobre, domenica si gioca per la seconda giornata di campionato con i corallini impegnati nel match casalingo contro il Virtus Francavilla. Gara d'esordio, quella contro i pugliesi, per la squadra di Mister Fabiano che affronterà la sfida di domenica con alcuni assenti. Mancheranno infatti il capitano Lungo, il giovane D'Alessandro e l'attaccante Giuliano Alma che si aggregherà regolarmente al gruppo per la metà di ottobre. Nonostante gli assenti, la squadra scenderà in campo con una formazione collaudata. Confermato il nuovo arrivato a Bagnale in porta. Difesa 4 con Rainone, Lorenzini, Dinunzio ed Esempio. A centrocampo, Daniele Franco schierato come vertice basso, affiancato da Fabiano e Signorelli. In attacco, Giannone alto a destra, Romano favorito su San Domenico nel ruolo di ala sinistra e Persano a sostituire Longo come punta centrale. Nel frattempo, sul fronte mercato, continua a muoversi Laturris che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Tascone dal Pescara torna a trattare l'attaccante del Pisa Giuseppe Sibilli. Il giocatore, già vicino all'arrivo in maglia biancorossa in estate è di nuovo una suggestione, in quanto il Pisa potrebbe lasciarlo partire in pressito dopo l'arrivo del giovane Palombi dalla Lazio. Grazie a tutti per la cortese, attenzione per info e segnalazioni è possibile contattare la redazione all'email redazionechiocciolatvcity.it appuntamento a lunedì con una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Grazie a tutti per la cortese, attenzione per la cortese.